Senta Salvini, parliamo però anche di questioni un pochino più spinose per lei. L'ultima è stata, ne abbiamo parlato anche ieri sera, di martedì, il giuramento sul Vangelo e sul Rosario che lei ha fatto l'altro giorno al Comizio. Allora, qui anche Monsignor Galantino, il segretario generale della CEI, ieri ha detto parole molto, molto dure su questo. Ha detto basta con lo sciacallaggio politico, dopo che avrete raccattato quei quattro voti in più, per favore, andate un po' in giro per l'Italia, guardate negli occhi queste persone e ditemi se potrete continuare a speculare ancora sulla storia drammatica di queste persone. Che risponde Salvini? Non mi sento minimamente sferato, ci sono tanti uomini in Italia, cattolici e non cattolici, che fanno volontariato. L'Italia è una delle capitali mondiali del volontariato, 5 milioni di volontari che sono iscritti all'Avis, come chi vi parla, all'Admo, che vanno in protezione civile, vanno in parrocchia. Però chiedono regole, chiedono limiti. Per accogliere devi accogliere un numero di persone sufficiente per poterle soddisfare. Se accogli in un bilocale tre persone le aiuti, se in un bilocale ne accogli 50, viene fuori un gran casino. Quindi io penso che un'immigrazione regolata, limitata, controllata, qualificata sia assolutamente necessaria e chi scappa dalla guerra ha nell'Italia a casa sua. I pochi che scappano dalla guerra. Quello va bene, però qui si parla di sciacallaggio politico. Ma no, sciacallaggio politico abbiamo visto fare comizi in chiesa, Renzi, Labonino, Baldrini. Di cosa stiamo parlando? Io ho sentito dal cuore dimostrare quel rosario che mi è stato donato da un parroco e fatto a mano da una donna di strada che ha ripreso in mano la sua vita. E per me è un impegno importante, non solo politico ma umano, mantenere tutti gli impegni che ho preso con gli italiani. Qualcuno si è offeso, me ne dispiace, non era ovviamente la mia intenzione, ma il gesto che ho fatto col cuore... Non chiede scusa Salvini, non chiede scusa Salvini. Ma di cosa? No, appunto. Di rivendicare che è un paese con radici cristiane. Non so, qualcuno magari preferirebbe impegnarsi sul Corano o su altro, lo faccia, però siamo in Italia. Croce diceva che non possiamo non definirci cristiani al di là della ragione perché c'è una cultura, c'è una tradizione di cui vado assolutamente orgoglioso. Qualcuno nega, qualcuno in Europa ha negato che l'Europa nasca da radici giudaico-cristiane. Questa è storia, questo è fatto e questo è futuro. C'è.